Musica Musica Un altro momento clou attesissimo e cioè l'anticipazione dei top 100 la classifica che il centro studio Utrade che vedo indaffarato nella parte audio ogni anno mette a punto per ordinare e classificare i migliori esponenti della distribuzione ecco qua Federico della Puppa Grazie Ben ritrovati a tutti scusate mi levo ecco visto che adesso posso levarmi la mascherina e vediamo un po' quali sono diciamo i risultati delle analisi che abbiamo fatto in questo periodo sui bilanci delle prime 100 aziende della distribuzione edile però prima vorrei siccome ci sono state alcune domande e una di queste riguardava se non erro proprio l'impatto che potrebbe avere il super bonus sulla sull'attività edilizia allora la risposta non sta in questo caso in una diciamo sfera di cristallo nella quale dobbiamo guardare e capire perché noi siamo bravi maghi e intenditori e dire ma secondo noi sarà così sta scritta nella diciamo nel comma 14 dell'articolo 119 cioè la stima l'ha già fatta il governo e secondo noi in realtà è una stima probabilmente anche prudenziale complessivamente il governo ha previsto una cifra a bilancio per i prossimi anni di circa 13-14 miliardi a sostegno di tutta la parte di cessione del credito in realtà per quest'anno erano previsti circa 62 milioni a bilancio abbiamo già visto che 13 milioni sono stati già richiesti quindi probabilmente da qui ottobre, novembre, dicembre se noi facciamo il conto 13 per 4 siamo più o meno forse in quella linea ma in realtà il problema non è questo il problema anzi l'opportunità la voglio vedere dal punto di vista della suggestione che ci ha dato il progettore dell'opportunità che abbiamo di fronte ed è il fatto che già dal prossimo anno sono previsti diciamo a bilancio per sostenere la cessione del credito quasi 3 miliardi di euro e 3 miliardi e mezzo per il 2022 e poi andrà a scalare negli anni successivi per il periodo di diciamo di validità del provvedimento che voi sapete è validità fino al 31 dicembre 2021 però in realtà già il ministro Patronelli ed altri soggetti anche ieri ci sono state delle dichiarazioni molto chiare in questo senso è quello di spostare probabilmente la scadenza al 2024 però in attesa di questo si tratta di un incremento significativo del mercato che però si porterà dietro attenzione non solo la parte relativa al super bonus ma voi sapete che la cessione del credito oggi è stata istituzionalizzata per tutti i crediti dal punto di vista dei lavori anche per chi non userà il 110 ma userà il 65 o per chi userà il bonus facciate del 90% senza poter accedere al 110 quindi siamo anche in una fase nella quale non è così facile fare una previsione una strategia perché i primi diciamo lavori importanti i primi condomini che hanno iniziato a lavorare perché diciamo che la parte più interessante è quella che hanno iniziato a lavorare con il 110% l'abbiamo letto ancora il 22 o il 23 di settembre sono partiti ancora prima che venissero definiti gli ultimi diciamo l'ultimo che venisse pubblicato l'ultimo decreto attuativo sono già partiti sono partiti nella città di Prato due condomini da 20 alloggi l'uno a circa un milione di euro di lavori per condominio cioè potenzialmente il mercato è molto rilevante perché cifre del genere significa che si interviene non solo sulla parte energetica dell'edificio ma anche sulle parti strutturali perché ricordiamoci poi che una delle grandi opportunità di questo provvedimento è soprattutto legato all'elemento trainante del sisma bonus non è solamente la parte eco bonus che ovviamente è quella però più vicina più simile cioè più più diciamo attuabile anche e capibile dai singoli soggetti peraltro una legge una norma che ha avuto un traino fantastico dal punto di vista del marketing che ha fatto il governo per la prima volta nella storia che si è venduto questo slogan attraverso il quale ovviamente si fanno i lavori gratis in casa propria è più o meno così ovviamente con alcuni distinguo però quello sarà un punto molto molto interessante quindi diciamo che le potenzialità ci sono sono molto rilevanti e secondo le stime potrebbero raddoppiare quella incremento dell'1,4% che abbiamo visto indicato prima anche secondo le previsioni fatte da alcuni istituti ricerca prometeia per prima eccetera cioè potrebbe esserci un raddoppio della dinamica soprattutto se il provvedimento verrà esteso non solo con la scadenza attuale ma esteso dopo e per almeno altri 2-3 anni allora vediamo invece entriamo in questa parte di discussione di racconto di cosa è successo nel 2019 dal punto di vista della distribuzione edile e andiamo a vedere i principali indicatori consolidati per classi di fatturato giusto per capire anche il campione di questi 100 top diciamo distributori e rivenditori di materiale edile abbiamo 7 aziende oltre 60 milioni di euro 9 aziende tra 30 e 60 milioni di euro di fatturato 49 aziende da 10 a 30 milioni e 35 aziende fino a fino a fino a 10 milioni allora al di là della questione delle dinamiche che poi vediamo più nel dettaglio mi interessa segnalare un primo dato un miliardo un miliardo e 900 quasi 2 miliardi di giro d'affari di questi 100 top rivenditori 2 miliardi di giro d'affare che è un dato interessante fatto su 100 soggetti e adesso una delle sfide che ci siamo dati come centro studio Utrade sarà iniziare anche a fare una serie di valutazioni sul non abbiamo i dati ovviamente delle superfici di vendita dei singoli rivenditori ma abbiamo per esempio numero di addetti quindi cominciare a fare anche una serie di analisi su quella che è la produttività dei vari soggetti ma dal punto di vista della produttività valutata dal punto di vista economico il dato interessante è questo più 5,1% è un dato molto positivo per il 2019 ma è un dato che si distribuisce nelle varie classi in modo diversificato come vedremo con una classe che l'anno scorso era quella che nel 2018 era stata un po' meno reattiva erano cresciuti molti grandi rivenditori e oggi invece vediamo che nel 2019 è stata quella che è cresciuta di più i 49 rivenditori tra 10 e 30 milioni di euro rifatturato sono cresciuti dell'8,7% ma guardate che a me questo dato è interessante come il dato ad esempio sul valore della produzione o sulla crescita del valore aggiunto anzi di questi tre valori forse la crescita del valore aggiunto è quello più interessante in questo momento perché perché il fatturato cresce del 5,1% e il valore aggiunto del 7,5% cioè stiamo costruendo più valore aggiunto di quanto cresce il nostro mercato di fatturato questo si riflette immediatamente che cosa sulla dinamica dei margini ma non tanto su quella dei margini sulla dinamica degli utili e sulla crescita del valore indice che io ritengo più interessante e più importante da questo punto di vista che non solo il margine operativo loro sul valore della produzione che in un anno è cresciuto diciamo si è consolidato intorno a quel valore del 5 in alcuni casi del 6 ma fino al 7% per i soggetti di più grande dimensione ma soprattutto l'utile netto sul fatturato un valore che come potete vedere diciamo è distribuito in modo diverso se prendiamo la media complessiva e lo valutassimo sulla media complessiva potremmo dire attenzione che il settore sta diminuendo in importanza su questo indicatore che è l'indicatore più utile dal punto di vista proprio delle analisi dell'efficacia delle azioni strategiche delle imprese ma in realtà se andiamo a vedere chi ha incrementato l'utile netto sul fatturato sono i soggetti di grande dimensione che è passato da 3,4 a 3,8 poi li vediamo anche meglio questi dati se poi condensiamo queste letture tra top 100 tra top 50 e top 10 a confronto vediamo che in realtà ciò che è accaduto è che mentre quelli di minore dimensione hanno una sorta di sacro fuoco di crescita intanto dimensionale gli soggetti di maggiore dimensione cioè la top 10 hanno una strategia di consolidamento e di lavoro cosa? strategico soprattutto su quelli che sono gli asset più importanti per l'impresa ovviamente la generazione di utili non tanto la generazione di fatturato crescono meno in fatturato crescono molto di più in utile allora la variazione complessiva del fatturato 2019 di top 100 sulla top 100 sempre delle top 100 degli anni precedenti è del 5,1% un valore comunque positivo il 2019 è stato un anno diciamo ancora una volta un po' con qualche montagna russa ma gli indicatori di performance ci fanno vedere un settore che da questo punto di vista si sta consolidando sempre di più 7 imprese su 10 hanno avuto fatturato in aumento ma più di 9 imprese su 10 91 su 100 hanno avuto bilancio inutile e questo è un dato che poi rivedremo perché ci sono state aziende che hanno avuto fatturati in calo e utili in aumento il che vuol dire che dal punto di vista strategico sono state imprese capaci di riorganizzare la propria attività e costruire una redditività migliore rispetto a quella che era un mercato che in realtà non ha avuto un traino di per sé stessa cosa molto interessante e in linea con la crescita della positività degli anni precedenti è la dinamica dei ritorni sulle vendite anche qui abbiamo il 91% di imprese con diciamo dinamiche positive e addirittura un'impresa su 5 con una buona o ottima redditività sulle vendite e quali sono gli altri indicatori che noi normalmente utilizziamo che forse già conoscete ovviamente il ritorno sui capitali sul capitale proprio investito guardate con un valore indice globale del 6,9% e poi che cosa la solidità patrimoniale la solvibilità anche qui abbiamo indicatori in miglioramento e quindi significa che le imprese top del settore finalmente dopo anni di diciamo costruzione di proprie strategie di mercato consolidamento dimensionale eccetera hanno lavorato sugli asset finanziari e non solo economici in modo da essere soggetti con non solo una buona solidità patrimoniale quindi diciamo meno problematiche rispetto agli scossoni anche del periodo del periodo che stiamo vivendo di pandemia e soprattutto dal punto di vista finanziario rispetto al tema dell'assolvibilità che è un tema dove abbiamo più della metà dei soggetti che hanno un'assolvibilità assolutamente sufficiente e quindi diciamo sono imprese con una buona liquidità e da un altro lato un'impresa su cinque questa liquidità ce l'ha non solo buona ma anche ottima la dinamica del fatturato la vedete in questa slide dove complessivamente abbiamo avuto crescite minori per le imprese di grande dimensione vedete il numero la distribuzione percentuale delle imprese in giallo per categorie ne abbiamo poche di grande dimensione la maggior parte è tra i 10 e 30 milioni di euro perché molto spesso la dimensione dei 10 20 milioni di euro è quella tipica di una classica azienda diciamo collocata in un solo punto magari con un solo punto vendita oppure è la dimensione classica dell'azienda con più punti vendita che magari sta nella classe oltre 60 e magari ha invece 6 o 7 punti vendita che fatturano sui 10 15 milioni di euro a punto vendita allora probabilmente c'è anche una relazione diretta con la diciamo per come siamo fatti noi in Italia il nostro territorio è un territorio molto diversificato forse la dimensione aziendale tra i 10 e i 30 milioni è una dimensione anche adeguata a servire determinati mercati locali però attenzione perché come ve ne ha detto prima in realtà la redditività maggiore non sta lì ma sta nelle imprese di grande dimensione che possono lavorare su che cosa ovviamente sull'economia di scala da un lato e l'economia di scopo da un altro se andiamo a vedere la variazione del fatturato 2018 e l'utile netto sul fatturato vedete che abbiamo 70% di imprese nel quadrato migliore quello della crescita e abbiamo poche imprese pochissime imprese che denotano degli elementi di crisi ovviamente sono in questo caso se fossero tante imprese in quel quadrato potremmo parlare di una crisi del settore qua dovremmo andare a vedere esattamente quali sono le specifiche diciamo situazioni di crisi delle singole aziende questo è un dettaglio non trascurabile perché ovviamente alcune aziende hanno subito nel corso di questi anni magari dei cambiamenti o strategie che nel breve periodo non pagano e nel lungo periodo invece pagano diciamo che uno degli elementi positivi di questi grafici è che se mettiamo in confronto la dimensione del fatturato qui la dimensione del fatturato in orizzontale in verticale mettiamo invece l'utile sul fatturato vediamo che la redditività è positiva per tutti per la maggior parte del top 100 ed è soprattutto una redditività che però si concentra in una diciamo dimensione di fatturato vedete la maggior parte delle aziende qui però lì ci stanno quelli che sono i campioni del settore quindi se io fossi un'azienda di distribuzione andrei a vedermi chi sono i campioni cercare di capire il perché guardate l'andamento del margine operativo lordo in percentuale sul valore della produzione è in crescita per la top 100 è passato dal 4,2 al 5,3 al 5,8 nell'arco degli ultimi tre anni e soprattutto l'utile netto l'utile netto è passato da 0,8 a 1,8 a 2,3 per cento 2,3 per cento un dato molto interessante tenetelo a mente questo dato perché poi lo vedremo in confronto a quelli che sono i dati della GDO poi qui ci sono una serie di altri indicatori che ci dicono come sta il settore e come stanno le imprese rispetto ad alcune dinamiche qui abbiamo messo in relazione la parte di produzione quindi la parte diciamo di vendita con la parte relativa agli utili finanziari qui vedete che la maggior parte delle imprese 9 imprese su 10 sostanzialmente hanno produzione quindi vendita in crescita e anche utili finanziari e ci sono poche imprese che in realtà si trovano in una situazione dove c'è stata una perdita di mercato e anche dal punto di vista finanziario alcuni diciamo dati non positivi con solo due casi sostanzialmente con dei valori molto molto negativi quindi come si dice di solito se una rondine non fa primavera due casi non rappresentano non sono rappresentativi di una potenziale negatività di questo di questo dato anzi questo è un dato che ci dimostra che complessivamente il sistema se dovessimo prendere la top 100 come un campione del settore il miglior campione del settore è un campione in salute dove voglio dire fatta l'analisi del sangue del settore ha il colesterolo in alcuni casi non proprio perfetto probabilmente queste aziende dovranno mettersi a dieta fuori di metafora dovranno individuare delle strategie più adeguate altro dato interessante è quello che mette in relazione la variazione della produzione e i costi della produzione e qui potete vedere che complessivamente chi è cresciuto quasi sette volte su dieci ha avuto anche aumenti del costo della produzione e in questo caso diciamo che i migliori campioni forse del settore non stanno lì ma stanno in quel quadrato vicino dove io ho una produzione in crescita vendita in crescita però ho costi della mia produzione in calo cioè riesco a gestire meglio l'azienda dal punto di vista proprio del controllo dei costi e quindi ho sostanzialmente dei soggetti che stanno in questa parte qua poi ovviamente torniamo sempre su quei casi particolari e sul fatto che comunque c'è una percentuale non trascurabile di soggetti che stanno diciamo su una buona strada ma in realtà questa strada qui è una strada che va migliorata ovviamente lavorando dove soprattutto non solo sul lato vendita ma sul lato costi qui abbiamo che cosa la diciamo fotografia di quello che è la dinamica dell'utile netto sul fatturato del 2018 e l'utile netto sul fatturato del 2019 2018 e 2019 qua vedete che 9 imprese su 10 hanno sostanzialmente stanno nel migliore quadrato alcune con una redditività cioè dell'utile molto molto rilevante anche qua fossi una di un'azienda andrei a capire chi sono questi cosa hanno fatto perché portarsi a casa un utile del 12 13% e posizionarsi in due anni consecutivi magari fatturando che so 50 o più di 50 milioni di euro vuol dire portarsi a casa 5 6 milioni di euro di utili che sono sostanzialmente le risorse che possono essere poi reinvestite nei processi innovativi al di là del fatto che poi possano essere ovviamente la miglior cartina di tornasole della effettiva capacità reddituale delle aziende e poi altro elemento è quello che ci individua al di là di alcuni casi particolari il fatto che ripeto la maggior parte delle aziende e qui i dati sono in miglioramento rispetto agli anni precedenti si trovano in una situazione di crescita per quanto riguarda il sistema delle vendite quindi le vendite sono state in crescita il mercato gli è andato dietro in alcuni casi abbiamo avuto crescita anche dei costi per gestire questi aumenti di fatturato di produzione eccetera ma in realtà la maggior parte delle aziende sono riuscite in qualche modo a tenere in equilibrio questa crescita di questi due indicatori cosa che ci permette di dire che il settore è sicuramente in una fase almeno per quanto riguarda la top 100 di buona salute dove possiamo anche migliorare ancora una serie di elementi come possiamo migliorarli soprattutto lavorando dove sul tema dell'assolvibilità e della solidità finanziaria abbiamo provato quest'anno a fare un incrocio che gli anni scorsi non presentavamo cioè è un incrocio tra il racconto della buona solvibilità e della buona solidità patrimoniale cioè sono finanziariamente solido dal punto di vista patrimoniale sono anche solvibile dal punto di vista economico e quindi ho il mio equilibrio economico finanziario che mi garantisce una buona dinamica se non ottima ecco questo quadrato è il quadrato delle vere aziende top sono le aziende che in qualche modo presentano i migliori indicatori ok questo è un po' la linea di chi è il più bravo tra i bravi certamente ci sono altri posizionamenti di imprese che ci dicono che hanno una limitata solvibilità ma una buona ad esempio situazione patrimoniale e qui invece un 26% di aziende che diciamo che alcune di queste si trovano intorno vicino allo zero e quindi su indicatori non particolarmente positivi ma altre si stanno muovendo pian piano verso i quadrati migliori ecco scopo non solo di quello che noi diciamo ma anche di tutto diciamo l'attività che si può fare rispetto ai suggerimenti strategici e quant'altro è sicuramente quello di dare input a queste imprese perché inizino a pensare di spostarsi dall'altra parte qui ovviamente io riporto i dati che poi vedrete saranno anche pubblicati su Utrade ma per quanto riguarda le classifiche e qui vedete sostanzialmente i dati relativi al dimensionamento con le posizioni nel 2018 e nel 2019 se andiamo a vedere molte aziende la maggior parte sono riuscite a scalare posizioni al di là del fatto che una decina di aziende che l'anno scorso erano nella top 100 quest'anno non ci sono non perché sono sparite ma perché non erano alla data della settimana scorsa quando abbiamo chiuso la raccolta dei bilanci sostanzialmente non erano disponibili ancora i bilanci presso le camere di commercio e questo è un problema che stiamo vedendo con le stesse camere di commercio perché diciamo con la fase di lockdown e con lo smart working i processi di inserimento dei bilanci nel diciamo nel sistema camerale italiano e quest'anno è più lento però complessivamente potete vedere che ci sono una serie di importanti soggetti che ben conosciamo e per i quali poi alcuni indicatori dinamici laddove vediamo ad esempio la variazione del fatturato che in alcuni casi anche nella top 100 vediamo con degli elementi negativi in realtà se poi andiamo a leggerci le diciamo le note integrative al bilancio capiamo anche il perché ci sono stati questi diciamo in alcuni casi variazioni negative ma anche di piccola dimensione magari un meno 3% eccetera in alcuni casi questa variazione è stata particolarmente negativa soprattutto in imprese di minore dimensione e alcuni casi particolari con delle dinamiche molto negative se andiamo a leggere sui dati all'interno delle note integrative scopriamo ovviamente non faccio nomi ma ognuno di voi potrà poi vedere le classifiche e fare le proprie riflessioni se andiamo a vedere è perché ci sono stati o problemi di mercato o riassestamenti delle imprese dopo un periodo magari di di difficoltà e quindi diciamo imprese che stanno cercando di agire per risolvere i loro problemi le classifiche le avete già viste prima ma le riporto qui perché in realtà ci sono delle indicazioni molto interessanti allora chi era grande è diventato comunque più grande alcuni con delle dinamiche ne abbiamo parlato anche prima con per esempio Ethernet è cresciuto dell'8,3% e si avvicina a superare quella soglia dei 100 milioni di euro di fatturato che semplicemente perché 100 è un numero tondo ci piace tanto però è anche una soglia che denota una dimensione aziendale che sicuramente consente di fare come dicevamo prima economia di scala economia di scopo complessivamente se notiamo molte aziende sono cresciute e sono cresciute anche in mercati regionali e territoriali che non sono i mercati più trainanti nel 2019 soprattutto per quanto riguarda ad esempio il centro Italia però abbiamo e la parte più a nord del mercato del sud Italia ma ad esempio abbiamo come potete vedere alcune aziende che sono riuscite a crescere in modo molto interessante e per quanto riguarda invece le migliori crescite in realtà prima in classifica ci sarebbe un'impresa che però abbiamo messo fuori classifica FC perché perché in realtà è un'azienda che nel 2019 ha dimostrato la maggior crescita di fatturato ma semplicemente perché è l'unione di due aziende e parliamo di quella prima assegnata in questo elenco ma se posso dire la mia semplicemente come analisi rispetto a quello che è già stato poi uno dei premi che sono stati consegnati prima rispetto al centro edile è che nel momento in cui vogliamo crescere molto dal punto di vista della dimensione del fatturato quindi andando a consolidare un mercato e andando a prenderci un mercato molto consistente la tipologia di impresa non è più quella semplicemente del rivenditore edile ma è quello che si apre ad altre categorie la falegnameria nel caso del centro edile ma non solo loro hanno anche aperto un ristorante ci hanno aperto diciamo si sono aperti al settore della ristorazione lui dice ma cosa c'entra io ve l'avevo raccontato già un paio d'anni fa e forse anche l'anno scorso l'avevo ribadito noi quando entriamo da Hobie in Austria la prima cosa che incontriamo non sono dei mattoni ma è una panetteria cioè un posto dove andiamo a comprarci il pane caldo la mattina e andiamo a mangiare a pranzo poi c'è tutta la parte di rivendita edile ma assieme alla panetteria ci sono altri dentro la stessa rivendita di Hobie che è una grande catena ovviamente della distribuzione specializzata ma in realtà io trovo le mele cioè il punto nella evoluzione di questo settore forse non sarà neanche più che sono specializzato nella rivendita in materiale edile ma sono specializzato nell'offrirti dei prodotti siccome sono bravo nella vendita il mio mestiere è vendere mattoni o vendere allora qualcuno si sta facendo questa domanda e queste risposte secondo me possono essere interessanti perché aprono a un modo diverso di fidelizzare e di avvicinarci a quelle strategie che ci raccontava prima il professor Giuliano Noci quando diceva dovete andare sulla connessione con gli utenti finali e soprattutto instaurare queste relazioni che sono relazioni immateriali non su quello che mi serve fisicamente ma su quello di cui ho bisogno e dove tu mi risolvi un problema sul tema qui vedete la classifica dei primi 10 per quanto riguarda i ritorni sulle vendite anche qua con delle interessantissime esperienze che sarebbero da studiare appunto nel dettaglio e andare nel vedere proprio per capire perché sono arrivati a quei livelli e a quei dati e poi soprattutto sul tema anche del ritorno sul capitale proprio certamente sono imprese di piccola dimensione certo ma proviamo a pensare se qualcuno mi garantisse che queste non fossero diciamo non fosse l'equity ma fosse invece l'investimento se queste fossero delle S.P.A. quotate in borsa certo un S.P.A. da 60 milioni o da 50 milioni è piccola per la borsa ma proviamo a pensare se uno è in grado di darmi una redditività del 20% ma insomma non è un'idea così strana cioè l'idea come succede all'estero dove le grandi catene di vendite ovviamente non fatturano 100 milioni ma fatturano 2, 3, 4, 6 miliardi di euro sono società quotate in borsa con le trimestrali pubbliche con tutti i dati finanziari economici pubblici perché ci sono i piccoli risparmiatori che comprano quote allora vado a chiudere la presentazione facendo un confronto con quella che è stata richiamata prima che voglio dire abbiamo parlato di Ikea di altri modelli Tesco Tesco è una catena che ha avuto modo di vedere anche come sono organizzati nella vendita è forse una delle migliori catene dal punto di vista della vendita della grande distribuzione commerciale europea se voi andate a vedere i bilanci della GDO e della GDS cioè della grande distribuzione organizzata o quella specializzata del fai da te prima vi faccio vedere due dati allora quali erano le catene presenti nel 2004 presenti anche nel 2019 e sono queste Brico.io Brico.key Brico.center Brico.fer FDT Leroy Merlin e OBI in totale avevamo nel 2004 313 punti vendita di quali 129 diretti e 184 in franchising la superficie totale era poco inferiore ai 600.000 metri quadrati e una superficie media di per punto vendita di 2000 metri quadrati nel 2019 sono 509 punti vendita ma guardate i dati dei diretti in franchising da 129 a 184 si è passati a 346 e 163 cioè il franchising non è più il modello non è più il modello oggi è punto vendita diretto marca ci veniva ricordato prima dal prorettore la superficie totale è aumentata a 1.400.000 metri quadrati e sono aumentate le superfici di vendita alcuni di questi alcuni di questi soggetti poi portano in su ovviamente l'euro a merlin prima di tutti che ha una media per punto vendita di 8.500 metri quadrati in 15 anni di GDO e GDS del fai da te è successo che sono aumentati di 217 i punti vendita diretti e sono diminuiti di 21 i punti vendita in franchising con una crescita della superficie totale del 137,8% in questa dinamica le principali aziende per le quali abbiamo la possibilità di avere i bilanci cioè l'euro a merlin brico man obi brico fair group che in realtà mette assieme il brico fair italia e brico self italia brico center brico io e ottimax italia sono le aziende per le quali possiamo analizzare i bilanci voi vedete innanzitutto la dimensione del fatturato l'erroa merlin fa da solo 1 miliardo e 537 milioni di fatturato con una crescita 2019 su 2018 del 5,2% quindi in linea con quella che è la crescita del fatturato che abbiamo visto prima per le aziende della distribuzione di ile alcuni altri soggetti che sono entrati nel mercato più di recente come brico man hanno superato il miliardo di euro in fatturato brico man è un concorrente diretto della distribuzione di ile crescita del fatturato dell'11,3% ovviamente siamo ancora in fase di grande apertura di punti vendita altri soggetti invece da più tempo presenti sul mercato più lenti e anche più standardizzati sulla tipologia di modello ovviamente hanno e dimostrano delle crescite minori complessivamente il totale delle insegne mostra una crescita del 6,1% del fatturato e dal punto di vista degli utili netti ecco qui in realtà scopriamo che cosa che non tutti sono top di gamma in questo senso cioè sono top rivenditori perché il più piccolo fa 93 milioni di euro di fatturato Ottimax sarebbe tra le prime posizioni della top 100 se fosse inserito nell'altra categoria però andiamo a vedere quali sono le redditività sul fatturato e noi andiamo a vedere che sostanzialmente Lerua Merlin fa il 2,4% Bricoman fa il 2,9% Bricoferr fa il 3,5% ma qui siamo a prefissi telefonici allora probabilmente siamo ancora di fronte ad un settore che soprattutto per quelli che sono i nuovi soggetti che sono entrati nel mercato Ottimax non sono molti anni che è sul mercato devono ancora costruire a se stasi stanno investendo tantissimo e quindi da questo punto di vista hanno diciamo più spese sicuramente ma se andiamo a vedere anche quali sono le redditività ad esempio sul capitale proprio guardate che i numeri non sono tanto diversi da quelli della distribuzione di in alcuni casi sono anche peggiori cioè BricoCenter Bricoio la stessa Obi anche se tornate in positivo dopo un 2018 difficile come BricoCenter però siamo su valori molto bassi e lo stesso ritorno sugli investimenti in alcuni casi è molto interessante perché in questo caso si l'Erua Merlein voi sapete fa parte del grande gruppo ADEO europeo sono gruppi comunque quotati sono gruppi dove la redditività finanziaria è uno dei primi obiettivi perché è poi la redditività dei propri azionisti ma soprattutto non tanto la crescita del valore della produzione ma gli indicatori della performance allora qui se andiamo a vedere quanti punti vendita ha ogni rivenditore abbiamo i 49 di Leroy Merlein i 23 di Bricoman i 57 di Hobby Italia i 95 di Bricofer o i 109 ad esempio di Bricoio e in realtà andiamo a vedere qual è il fatturato medio per punto vendita guardate l'Erua Merlein l'Erua Merlein è praticamente intorno ai 30 31 milioni di euro per punto vendita quindi siamo in quella fascia che sostanzialmente è stata la fascia migliore che nel 2019 ha avuto anche nel settore di distribuzione di l'Ele come crescita poi se andiamo a vedere quali sono i fatturati non solo le superfici di vendita complessive ma il fatturato medio per metro quadro noi vediamo che abbiamo dei campioni della vendita perché sono capaci ogni metro quadro di farlo produrre oltre la media complessiva anzi con valori molto rilevanti 3.700 euro al metro quadro per l'Erua Merlein addirittura 6.000 per Bricoman è chiaro che a questo punto Bricoman dimostra una grande reddittività degli spazi di vendita un'ottimizzazione dello spazio di vendita e quindi della relazione tra cliente e organizzazione quindi anche logistica interna voi sapete che oggi poi l'intralogistica è uno dei meccanismi sui quali costruiamo veramente la la diciamo la positività della gestione delle aziende in questo caso e poi se mettiamo insieme quali sono il numero degli addetti complessivamente queste sette insegne hanno 16.751 addetti il fatturato medio per addetto che è un altro indicatore interessante perché questo è un punto sul quale potete fare esattamente voi le vostre diciamo riflessioni su quanto voi siete in grado di produrre a metro quadro di vendita ma anche per addetto e guardate l'Erua Merlein ha 204.000 euro la media complessiva è 231 Bricomand ancora una volta è il primo in classifica 317.000 euro per singolo addetto alle vendite cioè è come se ogni addetto alle vendite avesse una propria aziendina che fattura 317.000 euro non è poco anzi è un valore molto interessante bisognerebbe capire come sono organizzati da questo punto di vista e come siamo organizzati noi chiudo con un'ultima mettendo a confronto i numeri perché vedendo i dati di bilancio della GDO e della GDS si potrebbe pensare vabbè di fronte alle astronavi noi siamo qua con la nostra macchinetta dove andiamo in realtà non è proprio così se mettiamo a confronto la top 50 della distribuzione cioè quelli che sostanzialmente superano la soglia dei 15 milioni di euro di fatturato cioè siamo dai 16 milioni di euro di fatturato in su prendiamo la top 50 e la mettiamo in confronto al sistema della GDO e della GDS la variazione di fatturato 2019 sul 2018 della top 50 del 6,5% contro il 6,1 ma il dato che a me interessa di più è questo questi sono stati capaci di creare utili sul fatturato pari al 2,3% del giro d'affari in quel caso nel caso della GDO siamo arrivati al 2% siamo vicini però è meglio la top 50 allora qui vuol dire che ci sono certamente le astronavi ma probabilmente come non so se qualcuno di voi ha mai guardato la serie di Mandalorian probabilmente anche una buona moto spaziale può essere utile a farci fare qualche salto di spazio intertemporale ecco io credo che dentro questi numeri ci possano stare molte riflessioni ognuno di voi la farà singolarmente però quello che posso dire è che rispetto ad alcuni anni fa finalmente il settore della distribuzione deal nella top 100 dimostra di avere caratteristica in generale di soggetti che oggi possono competere sul mercato con i migliori soggetti più organizzati dal punto di vista della GDO questo vuol dire non subire mandare diciamo in modo uguale a competere sul mercato certamente chi vincerà quello vedremo in futuro ma vincerà sicuramente chi lavorerà sulla propria organizzazione aziendale e sarà capace di monitorare i mercati e essere presenti con i mercati ovviamente dando risposte e soluzioni come anche prima ci è stato raccontato dal prorettore Giuliano Noci e che deve rimanere il nostro primario obiettivo oggi non è vendere materiali edili ma è vendere soluzioni e domani probabilmente vendere in senso più generale come alcuni di questi diciamo competitor hanno dimostrato con gli ottimi risultati e quindi sicuramente rappresentano dei fari ai quali guardare per anche imparare se non copiare le migliori strategie sul mercato ovviamente se ci saranno domande rispetto a quello che ho detto in questa presentazione le vedrò più tardi e sicuramente nel pomeriggio quando avremo la sessione finale a queste domande potrò dare una risposta intanto vi ringrazio dell'attenzione e ripasso la palla dopo la scorpacciata di numeri è il momento del lunch per analogia mi sembra stata una attirata davvero intensa facciamo una pausa di un'ora riprendiamo alle due con una chiacchierata in diretta con protagonisti della produzione e della distribuzione e con le conclusioni finali del professor Noci e con le risposte alle domande che volete porci a dopo